Il testo di Alfredo Fiorani, L'immortalità delle vittime, che per sottotitolo porta gli abruzzesi alla grande guerra, è un bel lavoro perché riconsegna finalmente alla dimensione storica quello che è stato il ruolo svolto dai cittadini, dagli abitanti della regione Abruzzo appunto nel periodo che va dal 1915 al 1918. Anche se noi immaginiamo la nostra regione lontana da un conflitto combattuto ai confini con l'impero astro-ungarico, in realtà le cose non andarono così e questo è quello che ben emerge nel testo di Alfredo Fiorani. Perché? Perché non solo si basa su quelli che furono i numeri effettivi delle partenze, cioè degli uomini chiamati alla leva, solo per dare un dato, il rapporto tra popolazione in condizioni di mobilitazione e mobilitati effettivi è circa del 97%. Quindi l'Abruzzo è stata addirittura la seconda regione in Italia per numero di uomini mandati in trincea. E oltre a questo il testo di Alfredo poi si concentra su quello che è stato il ruolo ad esempio delle fabbriche, delle officine, dell'apparato produttivo regionale sottoposto allo sforzo bellico. L'incrocio con le vicende contemporanee del terremoto della Marsica e del ruolo che ebbero ad esempio Nazario Sauro nel prestare soccorso ai sinistrati del terremoto. Il tutto scritto in maniera molto bella, molto scorrevole. Ho deciso di pubblicare questo libro di Alfredo Fiorani perché nonostante la mia sia una casa editrice che è nata con una vocazione alla poesia, non potevo non pubblicare questo libro. Perché è un saggio che ha in sé tantissimi punti di forza ed è un libro che può contribuire veramente a dare un valore aggiunto a quello che è il nostro panorama culturale e identitario. Il testo di Fiorani offre la possibilità di una rammemorazione degli abruzzesi al primo conflitto mondiale. L'immortalità delle vittime volutamente sottolinea questo passaggio. Che cosa ha reso immortali questi abruzzesi? È una storia di la possibilità di essere entrati dentro un evento che gli ha cambiato la vita, un evento che li ha fatti uscire in un qualche modo anche ognuno con la propria dignità, con il proprio spessore, dentro la grande storia. Il senso di questo lavoro sta soprattutto nell'aver messo insieme il rigore dello storico e nello stesso tempo anche l'elemento affettivo che si nascondiva.